Allora, ottava puntata di D'Azibau, grazie a chi fino adesso ha guardato questi miei consigli, di queste mie condivisioni di lettura. Sono un po' così perché voglio parlarvi di un libro che si chiama Quando le montagne cantano. Ero, ce l'ho avuto sotto gli occhi per tutta la settimana, adesso non lo trovo. Volevo farvelo vedere perché ha una copertina fra l'altro anche molto bella e perché essendo di un'autrice che mi sembra sia vietnamita come l'ambientazione del libro, dopo aver sbagliato Murakami 150.000 volte il video precedente, volevo farvelo leggere. Non mi cifro neanche. Ma dove l'ho messo? Salterà fuori non appena ho finito il video. Comunque, tornando a noi. Quando le montagne cantano. Allora, mi sono appuntato una frase che dice una delle protagoniste, che secondo me è molto bella, e dice Mi ero convinta che se le persone avessero incominciato a leggere e a scoprire le culture degli altri popoli non ci sarebbero più state guerre. Io credo che questo sia perfetta come analisi. Purtroppo tremendamente non reale perché non è andata così, non va così. Io mi stupisco del fatto che ci siano ancora guerre e violenze, però chiudiamo questo capitolo. Però questa è una frase molto suggestiva che secondo me da sola varrebbe la lettura del libro. Il libro, ricordiamo un attimo la trama, è la storia di trent'anni dello stato del Vietnam con le varie vicissitudini, i vari governi che si susseguono, fra l'altro con forti contrasti e anche operazioni molto violente sulla citrinanza in base a chi prendeva il potere in quel momento e questa storia qui viene raccontata attraverso gli occhi di una nonna e di una nipote. Ricordo che questa cosa qui mi era piaciuta talmente tanto che il libro l'avevo poi anche prestato a mia mamma. O forse gliel'ho regalato? No, perché io ce l'ho avuto sotto casa. Cioè l'ho avuto sotto mano. Vabbè, comunque l'ha letto anche mia mamma, tanto sapete che ogni tanto ci scambiamo i libri. Quindi la trama è più o meno questa. Ci sono questi trent'anni, questa famiglia che viene costantemente divisa, messa alla prova, c'è uno scenario di guerra molto molto tetro, molto violento. È un libro che, se dovessi definire il genere, un romanzo con forti adesioni storiche, nel senso che non riporta fatti realmente esistiti, cioè non ripercorre una storia nota, la storia di qualcuno, ma è inserito in un contesto storico chiaramente definito e raccontato in maniera precisa. Fra l'altro è un modo molto interessante e che mi è piaciuto molto per entrare in contatto con periodi di storia che il nostro percorso scolastico, quello standard, non ci permette di affrontare. Io del Vietnam, più che conoscere il fatto che ci sia stata una guerra in Vietnam, cantata anche da Gianni Morandi e che ha riguardato alcuni sportivi molto importanti, non è che fossi particolarmente a conoscenza. Invece qui ci sono trent'anni di storia di questa nazione all'interno dei quali appunto è inserito un racconto di fantasia, anche se estremamente verosimile anche il racconto in sé, ecco. È un po' quello che abbiamo visto anche per furore, per capirci, cioè storia inventata all'interno di un contesto reale e la storia potrebbe essere la summa di tante altre storie. Questo è quello che ho trovato in Quando le montagne cantero. Quindi come definirlo? Sicuramente un romanzo storico, un romanzo molto crudo, molto violento, un romanzo in cui fra l'altro succedono tante cose e ad ogni pagina alle protagoniste accade un qualcosa di estremamente negativo. Cioè è un romanzo dove loro hanno costantemente il confronto con la sfiga, per dirla come va detto, in cui gliene succedono continuamente di tutti i colori, in cui se fosse un romanzo scritto da una penna meno attenta, un editore potrebbe dire fai succedere troppe cose. In realtà non è così perché il ritmo e il susseguirsi di questi accadimenti rende molto avvincente e molto interessante la trama. Anche perché, e qui arrivo al punto, il vero nocciolo di questa storia, il motivo per cui secondo me andrebbe letto, è un romanzo che mi piace definire consolatorio. È un romanzo in cui le protagoniste, la nonna, la nipote, ma anche poi la figura femminile nel mezzo, sono tutte donne e questo lo rende secondo me anche molto molto interessante. Non sempre si riesce a trovare un romanzo con un'adesione storica così forte in cui ci sono delle protagoniste donne così fortemente caratterizzate, così ben rese, determinate. Quindi è un libro in cui le figure femminili sono estremamente positive e che sono anche molto ben definite e che hanno una capacità tutta femminile di andare avanti grazie a una forza interiore molto importante, chiamiamolo amore, chiamiamolo attaccamento alla famiglia, però quel senso del focolare che è predominante, quindi questo voler resistere a tutto per il senso della famiglia. Dicevo, tornando a noi in questo viaggio estremamente disordinato, un romanzo estremamente consolatorio. Perché? Perché per quante sfighe si possano abbattere su questa piccola donna che è la nonna che ripercorre un po' questi anni di guerra, insomma per quante sfighe si possono abbattere, lei non demorde mai, non ne arretra di un passo, non ha mai un momento decisivo di debolezza nonostante ce l'abbia io come lettore, in senso che a me come lettore a un certo punto viene da dire basta, date le tregua, cioè mi veniva da scrivere alla protagonista, all'autrice e dire basta, dalle tregua, fai uscire un po' di sole, di eccovaleno. Invece no, però questa persona, questa nonna, queste donne, lungo tutto quanto il romanzo, hanno la capacità di trovare energia e trovare forza e l'amore per la famiglia di questa donna che appunto sembra piccola e fragile è appunto un coltello che tutte le volte va e squarcia questo velo nero che incombe sulla loro sorte e sul loro destino, per cui è molto bello, è molto bello. Una lettura non sempre facile perché ha un forte carico emotivo, nel senso che l'autrice è proprio molto brava a coinvolgerti, in questo riesce essere poco romanzo storico, cioè non riesci a distaccartene come se fosse una lezione di storia, ma quindi un qualcosa di definito, ma ti assorbe come un romanzo in cui tu ti sei proprio, è un romanzo, ti assorbe come un romanzo perché è un romanzo, ma pa, colpo di genio. Cioè tu ti senti veramente coinvolto a livello emotivo e questo è sicuramente un merito della scrittura, oltre che ricordiamolo sempre, della traduzione e quindi non è sicuramente una lettura da ombrellone, se vogliamo dare una qualifica alle letture e metterci anche quello. Perché appunto questi trent'anni del Vietnam non sono stati anni facili, sono stati anni con molte guerre, molta distruzione, molta violenza, ma è quindi con un carico emotivo molto forte che l'autrice riesce a trasmettere quasi come sale sulle ferite. In tutto questo però c'è appunto l'aspetto consolatorio che aiuta e porta al finale. Esagero questo in un programma scolastico che attraversa la storia, principalmente quella dell'Occidente, perché ovviamente non c'è il tempo e lo spazio per raccontare le storie del mondo, sarebbe bello che fosse una lettura obbligatoria, perché attraverso un romanzo, quindi ripeto, una storia inventata, però si conosce molto di più del Vietnam e quindi di altre storie che sono sempre le nostre e che per tornare alla frase che ho riportato all'inizio, quella del protagonista, mi ero convinta che se le persone avessero incominciato a leggere e a scoprire le culture degli altri popoli non ci sarebbero più state guerre. Ecco, questo è un modo per conoscere le culture degli altri popoli. Mi spiace non aver trovato il romanzo qui in casa, anche se ce l'avevo sotto gli occhi tutta la settimana, probabilmente adesso spegnendo la telecamera lo ritroverò, nel caso ve lo mostro. Grazie sempre per seguire i miei video, questa è l'ottava puntata, ne mancano altre due, poi dopo vediamo cosa succede e come andare avanti. Grazie mille, ciao e un saluto.